Io per 50 anni sono curato sempre a Navia, una botta che hai vinto, chissà, credeva che era fatto, e invece ha ido peggio, buono per un'auto, ah no, stiamo a posto ancora, stiamo bene, stiamo bene, non è vero? Sei d'accordo? È d'accordo come dice lui? Sì, sì, d'accordissimo. Ha parlato uno o ha parlato tutto? Allo stesso.